ciao a tutti eccomi qua sono tornato di nuovo sono random 1987 motori sono tornato con una nuova diciamo nuova portazione diciamo con il microfono nuovo che lui perché purtroppo mi sono comprato dopo tanti sacrifici di youtube perché poi dicevo e non lo comprerò mai e lo ricompro non lo compro poi la fine se ho comprato il microfono qui è una meraviglia incredibile e quindi ho detto possiamo fare un video un po più professionale a forza di usare il microfono in road che ve lo farò vedere e quindi vi farò vedere quel che ho in giro non fatevi potete scrivere qui sotto nei commenti quello che volete dire è bella la protezione il microfono è buono tante cose se l'audio è buono o fa tipo non si sa ancora se fa tipo non lo so se fa tipo o è bello o brutto non si sa ancora quindi e vi faccio vedere la mia grande notizia raga vi faccio vedere la postazione ancora uguale a prima diciamo è ancora uguale a prima ma l'unica cosa che è rimasta ancora il mio microfono questo qua il road poi l'assistente vocale questo qui l'assistente vocale e soprattutto rimasto tutto quel che c'è è rimasto ancora quello che c'era prima diciamo è l'unico che è stato aggiunto diciamo è il magnifico cambio nella logitech g29 che lui il volante e soprattutto è sparita la mia mia madre da golf perché non mi piaceva più è sparito pure il xiaomi redmi note 7 è sparito e adesso ho il mio bel iphone 7 il grande iphone 7 lo chiamo iphone 7 che è lui tutto qua che è stato modificato mi ha messo la cova più bella poi questa scatola del mio microfono quello che ho adesso attualmente addosso che è un microfono veramente buono di alta qualità poi la postazione dove vado a fare video video quelli dove spiego le cose così e poi vabbè rimasta ancora uguale la postazione ancora uguale c'è l'orologio dei pokemon lì poi il clima che è stato aggiunto quello e la stampante c'era già e il calchion è stato poi messo qui sotto qui sotto qui sotto è stato messo il calchion da sotto e basta il calchion è rimasto quello la poi la striscia led è rimasta ancora quella che ho adesso questa qua questa ecco qua questa posizione ancora quella di prima e poi e poi basta quindi se non potevo lo schermo scusate e sto registrando col mio microfono in una posizione forse imbagliata e mentre un po basta la voce perché è un microfono che deve la luce led questa qua sotto sta illuminando a me e è una cosa nuova che non ho mai quindi ho avuto l'occasione di comprarla la luce e volevo comprare la luce quella per illuminarmi la faccia perché se ne metto un'altra posizione sembra che ho la luce da faccio diciamo così è una cosa importante adesso ho fatto appena attualmente diciamo proprio attualmente ho fatto i 139 iscritti sul mio canale youtube iscrivetevi al mio canale spero che vi sia piaciuto questo video vediamo ai prossimi video non so quando usciranno usciranno più presto possibile non so quando perché ti sto organizzando con un cane ho preso un cane da poco un canolone bellissimo perché è un cane speciale quindi spero che vi sia piaciuto questo video iscrivetevi al canale iscrivetevi al mio magnifico canale youtube che è random 1987 motori spero che vi sia piaciuto questo video che è una presentazione della mia postazione del 2021 perché ho fatto quella del 2020 ma era ancora in modo progetto diciamo quasi finita e adesso è proprio quasi da tutto finita manca una tirania lunga iscrivetevi al mio canale potete mettere tanti mi piace mettete tanti commenti potete commentare quello che volete potete commentare quello che vi piace di più se è piaciuto questo video mette tantissimi like soprattutto 20 mila like mettete 20 mila like spero di arrivare a un milione di iscritti spero e ci vediamo nei prossimi video e ciao 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 ciao